Ragazzi volevo ringraziarvi tutti, tutti, tutti per aver fatto girare a palla la nuova canzone, sono felicissimo e non vedo l'ora di farlo ascoltare per intera, ma soprattutto il 28 di febbraio uscirà il nuovo disco quindi mi raccomando, penso che tra un paio di giorni inizierà e partirà il pre-order del vinile in copie esclusive, solo 1986 copie voglio cantarvi la nuova canzone e lo voglio fare dal vivo perché mi avete dato veramente un'emozione unica e quando pubblico le canzoni nuove e piacciono è la più grande ricompensa che potete darmi quindi grazie, grazie veramente di cuore, sono felicissimo e vi raccomando il 28 di febbraio l'ultimo, il nuovo disco vinile in copie esclusive, firmate, autografate uno a uno, solamente 1986 copie quindi affrettatevi ad acquistarlo, ci sarà una pennetta USB all'interno per le macchine che non hanno il cd il vinile, ci sarà una raccolta foto personali della mia famiglia quando ero piccolo ci sarà tutta una cronostoria molto bella, tante tante sorprese e ovviamente il cd all'interno del vinile per farvi questo grande regalo il mese di febbraio è il mese dell'amore e non potevamo che festeggiarlo così vi canto la nuova canzone, occhio non puoi dire che tutto quello che hai fatto con me non puoi dire tutte queste cose non ne puoi sapere che la sua fidanzata era l'amante unico mamme è malassata perché l'indocore si è stanca di perdere non puoi dire che tutto quello che hai fatto con me che mi fa bene ancora tu non puoi dire che non ne hai cancellato niente di me che tu ormai presto solo per fare se l'indicione stiamo ancora insieme quando la cosa non puoi raccontare, quando gli anni avvoli si parlare che st'amore è più bello e buone, che non muore e continua a campare rinda la vita, soltanto mi vengono e tu mi fai perdere ma che serve, sta vita si vende, ma non tendo a te ma non tendo a te ma non tendo a te tutto dedicato a voi mi raccomando 28 febbraio l'ultimo ciao